Qui da ratti la Fiesta non finisce mai, eccola qui è tornata Ford Fiesta raga, andiamo a vederla subito Ecco qui il profilo laterale, fighissima, davvero molto sportiva, vediamola meglio Questi sono gli interni della Ford Fiesta Ragazzuoli eccomi oggi a bordo di Ford Fiesta, settima serie, 5 porte plus, 1.5 di cilindrata con 85 cavalli Cambio manuale, motore diesel di ultima generazione C'è davvero un sacco di tecnologia, uno schermo touch a colori bellissimo La possibilità di connettere il proprio dispositivo, di effettuare telefonate, ascoltare la musica che vogliamo Apple CarPlay, Android Auto, comandi vocali Per quanto riguarda la tecnologia è davvero il top Anche il comfort è il massimo, questi sedili sono veramente veramente comodi Il volante è quello bello resistente di Ford, ci sono delle prese USB, la modalità eco Se siete alla ricerca di un veicolo tecnologico, pratico, ottimo per l'uso in città ma anche fuori Davvero questa Ford Fiesta spacca un sacco La trovate aziendale con 12.000 km Coprite di più andando su rattiauto.com Dove potete trovare questa e più di 600 auto disponibili Chilometro zero aziendali e usate Anche veicoli commerciali Noi ci vediamo in un prossimo video Bella Ciao 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 Ciao